ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti scusate il minuto di silenzio ma non mi aggiornava la pagina e non capivo se era partito il live oppure no bene ora che ho la certezza che è partito e mi prenderete sicuramente in giro sia qui che su youtube dove ricaricherò il video in live in differita possiamo iniziare che dire siamo qui come al solito ritrovati tutti insieme per il primo dei due appuntamenti settimanali in diretta il martedì e il venerdì per commentare un po i grafici il mercato bitcoin le altcoins quello che succede nel fantastico mondo cripto e ovviamente anche qualcuna tra le notizie più interessanti e qualche risposta alle vostre domande che mi fate o in diretta o fuori dalla diretta spesso io ricevo anche sui social alcune vostre domande che magari avete qualche curiosità qualcosa che butto lì che vorreste vedere approfondito cose di questo tipo e io di solito le riporto sempre nei live prendo spunto da lì per rispondervi poi nei live allora che dire oggi abbiamo bitcoin che non è che faccia proprio faville dal punto di vista grafico infatti non abbiamo tantissime cose da dire però il mondo della defi per fortuna ci dà qualcosa di cui parlare sapete che non ci si annoia mai con le cripto quindi che ci sia il prezzo che impazzisce quindi opportunità di speculazione oppure che il prezzo sia fermo qualcosa da dire c'è sempre in questo caso abbiamo praticamente vabbè progetti defi nuovi che nascono ogni due secondi più o meno 90 su 100 sono delle fuffate clamorose e oggi ve ne voglio presentare uno interessante molto utile sul quale magari farò un approfondimento anche in futuro che è zapper.fi me l'avete fatto scoprire voi tra l'altro ricordo che nei in un live un po di tempo fa me mi avete chiesto io l'avevo tra l'altro frainteso per un altro progetto e avevo dato una risposta un po incompleta ecco poi me lo sono andato a vedere per curiosità e ho detto ma che figata e ho iniziato ad usarlo anch'io quindi oggi ve lo presento e se poi vi interesserà lo approfondiremo in un video dedicato e poi un caso che è successo stanotte che è la nuova chicca insomma di andrea cronje mister your finance che è stata bucata il giorno 1 lo smart contract bucato il giorno 1 quello deve fare un po da spunto di riflessione per capire la follia ecco che sta succedendo nel mondo della defi in ogni caso siamo sempre qua ovviamente a tutti insieme allo scopo di scambiarci idee scambiarci opinioni quindi se avete domande anche non inerenti a quello che ho detto mi raccomando fatele perché c'è una cosa cui tengo molto e che ripeto sempre ultimamente come un mantra che è non esistono domande stupide non esistono domande sbagliate quindi mi raccomando non vi preoccupate e fate tutte le domande che vi vengono in mente se avete un dubbio buttatelo fuori non siate timidi per chi mi segue su twitch e non conosce gli altri miei social vi ricordo che ho anche il canale youtube quindi vi suggerisco di iscrivervi trovate tutti i link giù nella descrizione e per chi invece mi starà seguendo parlo con il futuro mi starà seguendo in differita su youtube seguitemi anche su twitch se volete partecipare in diretta e farmi le domande in diretta trovate in ogni caso tutti i link nella descrizione del video in ogni caso lasciatemi un like che mi gaso ai massimi detto questo iniziamo subito sicuramente so che oggi mi farete un sacco di domande sul fatto che ho lasciato il lavoro stabile a tempo indeterminato in periodo di covid bello ben pagato e tutto quanto per lanciarmi nel mondo delle cripto mi sono preso del pazzo più o meno 500 volte non lo so giù di lì però sono veramente gasato non avete idea di tutte le cose che adesso in mente da mettere in pratica voglio proprio fare un salto di qualità per darvi il massimo che possiate chiedere sotto tutti i punti di vista alzerò ancora di più la sticella dei contenuti porterò veramente tante tante novità non vi spoilerò ancora nulla vedo che qualcuno chiede già sul video riguardo al video sugli nft i non fungible tokens lo sto preparando e lo volevo pubblicare in realtà già ieri però ho detto no è frettoloso in realtà più esploro sul mondo degli nft più scopro e quindi mi dispiace limitarmi giovedì ho una giornata libera mi son preso la giornata libera per andare a donare il sangue e in quella giornata lì che sarò a casa prenderò tutte le informazioni che ho raccattato sugli nft le metterò insieme le comprimerò e farò il video che avrò fortunatamente un po di tempo in più sarà un assaggio dei dei prossimi mesi nel frattempo mi raccomando domande 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 perché parto sempre da voi poi sapete che ci sono le tabs lì in alto dietro al browser che già vi spoilereranno gli argomenti e quindi insomma di quelli ne parliamo però vi voglio sul pezzo primo secondo grandissimi ben ritrovati ben ritrovati a tutti ciao a tutti ciao vi chain holder anche a te ben ritrovato il nostro sempre presente ciao grande stavo guardando proprio ora la tua recensione su safe pole ce l'ho qui da qualche parte tra l'altro in qualche cassetto va bene i meandri ottimo hardware wallet molto economico molto carino qualità prezzo eccellente ciao a tutti che bello è già martedì io preferirei che fosse venerdì però vabbè è già martedì buonasera a tutti grande donkt ben ritrovato anche a te che sei sempre presente un altro sempre presente ciao luca buonasera a tutti ciao filo anche di te mi ricordo ultimamente ci sei sempre buonasera ciao ragazzi ciao luca ciao luca sono mancato per un po ho saputo del tuo traguardo sono contentissimo per te grazie mille grazie di cuore guardate mi date una carica ho ricevuto il giorno che vi ho comunicato la l'avvenuta fatto no il misfatto ho ricevuto talmente tanti messaggi di incoraggiamento che veramente mi sono commosso è stata una cosa bellissima e mi dato una carica pazzesca cioè veramente mi fate venire voglia di non mollare mai e sarà così sempre alla grande grande ben ritrovato anche te buonasera dimissionario allora luca quanto gasa di mettersi per dedicarsi alla propria passione ultimo giorno di lavoro outfit come bitcoin billionaire mi metto sai cosa l'ultimo giorno la camicia quella che mi avete tanto criticato quella hawaiiana rosa floreale che l'avevo messo in un live mi avete insultato un sacco metterò quella buonasera a tutti ciao luca ciao ragazzi ciao giuseppe ben ritrovato anche a te andiamo subito su un tema hot cosa ne pensi di venus si può farmare su launchpool e apre le porte alla defi su smart chain grande ben ritrovato anche a te the business zen che ormai ti riconosco che dire venus è uno dei launchpool e qui saltiamo a uno degli argomenti è un progetto interessante perché la binance smart chain secondo me è in espansione abbiamo visto un po' il concepimento del concetto di defi sulla smart chain sulla binance chain in generale con burger swap che è stato decisamente un bel traino perché ha mosso volumi molto molto interessanti venus in realtà vuole fare vuole essere un po' il primo protocollo di di landing ok sulla binance chain stessa e adesso ci arriviamo partiamo da adam e deva però perché la cosa che vi volevo dire e che nasce da un dubbio che molti di voi mi hanno sottoposto è la seguente eravamo abituati al fatto che dai flexible savings noi ci mettiamo dentro i nostri bnb usd o altro e in cambio riceviamo ok l'apy dato dal farming di questi token erogati con il launchpool bella protocol e wing in particolare e in più ovviamente il rendimento del flexible saving arrivando a un apy di tutto rispetto oserei dire ecco ultimamente hanno cambiato un po le cose anche perché se buttavano dentro tutto nel launchpool veniva fuori un apy assolutamente op senza senso e quindi cosa hanno deciso di fare hanno deciso di splittare quindi se voi utilizzate i flexible savings come pool voi guadagnate i token bell e il token wing se voi utilizzate altri pool appositi voi potete farmare altri token in particolare flamingo ok non so se ne avete sentito parlare è il cioè ormai stanno nascendo questi protocolli defi queste piattaforme defi sulle varie blockchain flamingo è sulla blockchain neo che ha avuto un po di problemi durante il suo rodaggio perché la blockchain neo si è un attimino fermata non la blockchain neo il livello 2 su cui girava flamingo di cui non ricordo il nome ha avuto un po di problemi e quindi c'è stato un attimo di paralisi della piattaforma flamingo che poi però è ripartita tranquillamente non si è fermato ovviamente la blockchain neo si è fermato il livello 2 ci sono stati un po di problemi dovuti all'elevato traffico e quindi flamingo sulla blockchain neo poi abbiamo venus di cui ci chiedeva poco fa il nostro amico della community che è sulla binance smart chain per l'appunto e poi abbiamo alfa finance lab che è stato annunciato mi pare oggi o ieri che è un altro protocollo che non ricordo dove sia perché però mi pare che sia sempre sulla binance smart chain e anche era su era cross chain esatto cross chain defi sulla smart chain e su ethereum se non ricordo male sostanzialmente è un progetto che punta a far comunicare tra loro la binance smart chain e la blockchain ethereum e ecco stanno nascendo un po tutti questi prodotti che sono assolutamente interessanti però ovviamente sono come dire appena sono in stato embrionale anche venus è veramente interessante perché è una sorta di maker dao ecco messo sulla binance smart chain quindi è un inizio ok punta a creare una stable coin delle stable coin dei volt sui quali nei quali metter dei collaterali e con i quali poi creare degli altri asset in primis delle stable coins ve l'ho detto un protocollo di landing di borrow land un po simile a maker dao per capirci e il tutto costruito appunto sulla binance smart chain ci sarà questo token vai che è il token nativo della piattaforma e sarà creabile tramite cioè minabile ottenibile diciamo tramite questi pool quindi ritornando al discorso dei pool abbiamo da un lato i flexible savings con i launch pool che permettono di farmare bell e wing dall'altro lato abbiamo uno alpha finance lab due venus tre flamingo quindi cosa possiamo fare possiamo scegliere di fare staking su alfa su alfa finance lab è uno scioglilingua e avrò solo quello non avrò il quelli del launch pool posso scegliere di fare il 50 per cento su alfa il 50 per cento su venus farò venus e farmerò venus e alfa e così via posso scegliere di dividere in quattro 25 per cento flamingo 25 venus 25 alfa 25 launch pool farmerò un po tutto però ovviamente in percentuali minori quindi purtroppo c'è questo cambio di programma la differenza è che occorre andare sulla pagina del launchpad per andare a vedere questi nuovi e poi cliccare stake now e in sostanza si vincolano si mettono in staking i propri asset nel rispettivo pool e si ottengono i token in questione sono tutti quanti progetti interessanti perché sono i primi progetti nascenti nella sulla binance smart chain che poi ci si può si può opinare se è decentralizzato oppure no più no che sì diciamo però sicuramente avrà mercato questo su questo non c'è dubbio perché con dietro binance che lo spinge c'è dietro una barcata di liquidità e quindi sono certo che vale la pena seguirli a prescindere da tutto il mio approccio è il solito ovvero studiarli guardarli vedere come crescono ma non investire in essi all'inizio per il motivo di elevato rischio che è un po più tende un po di più alla scommessa in ogni caso vale la pena seguirli per vedere come si muove la defa e sulla fine a smart chain che passi segue se fa errori se ci sono imprevisti mi strozzo e cose di questo tipo quindi assolutamente interessante volevo chiarire il punto dei dei launch pool che non è più tutti in uno ma è splitato in diversi pool poi ciao luca quali canali di news consigli per tenersi aggiornati sul mercato delle cripto e quali per i nuovi progetti interessanti su cui valutare investimenti e già che ci sono come si chiama l'indicatore di destra che si vede sempre dai tuoi grafici allora parto con la domanda più facile ovvero l'indicatore di destra l'indicatore di destra si chiama volume profile e altro non è che il volume messo in orizzontale che cosa vuol dire vuol dire che non è più in funzione del tempo ma in funzione del prezzo quindi fondamentalmente tu vedi per ogni livello di prezzo ok che vedi qua cioè è proprio spalmato sui livelli di prezzo e per ogni livello di prezzo quanto volume è stato mosso nel mio caso nell'intervallo visibile è un indicatore che è presente in trading view pro però lo trovi anche gratuitamente su altri siti come go charting me ne viene in mente uno a cosa serve banalmente per vedere a che prezzo è stato mosso il maggior volume di scambio esempio nel visibile a questo prezzo qua in quest'area di prezzo qua e quindi fondamentalmente vedi il cosiddetto point of control che è la linea rossa che vedi qui è il livello di prezzo a maggior volume in assoluto che altro non è che un prezzo significativo dal punto di vista di movimenti eseguiti quindi dal punto di vista anche dei grossi capitali mettendosi nei loro panni sicuramente hanno agito di più hanno lasciato un'impronta a quel livello di prezzo lì e questo per noi pesci piccoli cosa ci dice ci aiuta un po a seguirli perché ci fa capire se magari c'è una fase distributiva se c'è una fase accumulativa in base ai movimenti che seguono le fasi di lateralizzazione intorno ad un livello appunto con volume elevatissimo volume più forte significa più movimenti quindi maggior attività accumulativa distributive quindi il movimento che ne seguirà sarà di più interesse di maggior interesse di maggior rilevanza questo è un piccolo sommario del volume profile magari un giorno mi decido anche a fare un video dedicato qualche volta me l'avete anche chiesto mi sa poi arrivando alle altre domande quali canali di news allora io personalmente seguo i social soprattutto in particolare twitter e in particolare reddit sono i due social che seguo di più serve un enorme operazione di filtraggio che purtroppo solo l'esperienza ti può portare a fare bene perché il rischio è quello di annegare nelle scillate ok quindi nei post sponsorizzati nel nelle community che continuano a spammare le loro coin a dire che c'è solo questo il futuro questo fa schifo le guerriglie tra community quelle schifezze lì però se uno sa filtrare trova veramente delle perle in particolare seguendo magari profili autorevoli come le le pagine stesse delle varie piattaforme le pagine stesse degli sviluppatori dei rappresentanti delle delle piattaforme principali insomma di ciò di cui vuoi seguire le news ci sono anche molti trader interessanti su twitter che però ovviamente bisogna capire che fanno le loro analisi hanno la loro operatività e quindi non vanno mai imitati ciecamente insomma poi ci sono alcune testate giornalistiche che a me io tendo a seguire meno perché di solito sono molto biased come si suol dire cioè c'è molta sponsorizzazione sulle testate giornalistiche sui blog italiane a me piace molto cripto rivista con cui lavoro spesso con cui mi trovo molto bene è un team molto genuino che lo fa senza scopo di lucro e dà della buona informazione a mio parere vi consiglio di seguirli cripto rivista tutto attaccato hanno anche i loro profili social e lì trovate tutte le notizie principali sparano fuori mille articoli al giorno questo in sostanza è un po quello ciao ragazzi prima diretta gasato ai massimi grandissimo benvenuto mi fa piacere che ci sia gente nuova anche oggi e spero che ti troverai bene secondo te come andrà a finire con il nuovo progetto di cronie resterà macchiato da questo hack subito o ce ne dimenticheremo in fretta se sarà un buon prodotto per me la seconda allora andiamo a fare due chiacchiere su questo nuovo progetto di cronie visto che era un altro degli argomenti da trattare intanto chiudo binance che ne abbiamo già parlato allora che cos'è successo che cos'è questo nuovo progetto di cronie allora stamattina scrollando twitter è saltato fuori questo allora eminence finance si chiama dal nulla ok è un profilo twitter un feed vuoto che ha pubblicato questa prima immagine 23 ore fa quindi ieri questo logo con sotto questa scritta spartans non vuol dire niente vuol dire tutto chi lo sa e poi andre l'ha rituitato ed è da lì che è nato un po di hype perché perché andre per chi non lo sapesse è il la mente dietro a your finance che è il progetto dei fai forse più rilevanti in assoluto più interessante in assoluto perché ha aperto le porte a un intero settore che è quello del fund management dal punto di vista de fai cosa vuol dire vuol dire che immaginatevi la de fai come la possibilità di mettere a rendita le proprie coin utilizzandole fornendole in liquidità diverse piattaforme che possono essere di lending possono essere dex come uniswap far liquidity provider su uniswap tutte queste tipologie di piattaforme ok che danno un rendimento sul su quanto investito a fronte di alcuni rischi ricordiamolo sempre perché è importante però in sostanza si ha un rendimento va bene quindi si può fare un parallelo con la finanza tradizionale che anche lì ci sono dei prodotti che ti permettono di ottenere un rendimento ovviamente il rendimento in sé non è minimamente comparabile poi ci sono c'è il discorso dei rischi e tutto quanto però volevo solo fare il parallelo con i gestori di fondi tradizionali che ti mettono i tuoi soldi in sostanza dove secondo loro c'è il miglior rendimento il miglior rapporto o meglio rendimento rischio quindi maggior rendimento e minor rischio nella defy questo lo faceva yearn finance quindi in automatico seleziona le piattaforme defy più affidabili compara il rendimento e ti smista i fondi su queste piattaforme per massimizzare il rendimento minimizzando il rischio in maniera dinamica questo è yearn finance ed è stato rivoluzionario non a caso è una delle piattaforme più utilizzata in assoluto bene ora che ho fatto questo preambolo per chi non sapeva chi fosse è famoso anche per un'altra cosa che trovate nella sua bio ovvero ai test in prod cosa vuol dire vuol dire che lui testa i nuovi smart contract le nuove piattaforme direttamente in produzione sulla mainnet quindi non è che fa le prove in test net vediamo se funziona se non funziona a cambio eccetera eccetera ma lui vomita tutto fuori direttamente sulla mainnet dicendo ragazzi se io quando io costruisco del software lo faccio per me se volete a tutti i costi interagire state tranquilli ci saranno dei bug perché io faccio dei test direttamente in produzione questo un po in sostanza quello che dice e quello che è successo è che ha vomitato fuori questo eminence che poi ha detto essere in sostanza una piattaforma che mischia gaming e defy vanno molto di moda questi due temi sono sicuro che ci saranno dentro anche gli nft ci metto la mano sul fuoco anzi tutte e due le mani sul fuoco e in sostanza questo spartans così come poi marines harlekins e spectros sono i nomi dei clan li ha chiamati clan non meglio specificando però in sostanza fa parte di un ambiente di gaming e dopo cioè quello che è successo in verità è che lo smart contract di eminence finance ancora prima che venisse oditato verificato utilizzato implementato e tutto quanto non c'è neanche il sito web di eminence finance per capirci aveva si è trovato sopra 20 milioni di dollari di fomo investors che ce li hanno buttati ciecamente senza neanche guardare o pensare a cosa potesse essere presi dall'hype presi dalla fomo del nome che c'era dietro ha detto boh please take my money eccoci e quindi cosa è successo è successo che poi andrea è andato a dormire e la mattina dopo si è svegliato con lo smart contract completamente prosciugato 8 milioni di dollari sono stati mandati al contract del vault eccolo qua yearn deployer account quindi al suo contract al suo account e 15 milioni e il restante scusate è stato completamente prosciugato l'exploit in sostanza ha sfruttato una vulnerabilità dello smart contract con cui si si sfruttavano certe cose che vabbè non entriamo troppo nei tecnicismi perché non avrebbe neanche troppo senso in sostanza quello che è accaduto è che la gente è rimasta poi ovviamente danneggiata perché chi ha messo dentro questi soldi ok 8 milioni gli 8 milioni recuperati sono stati resi a chi a chi li aveva prima quindi è stato fatto uno snapshot precedente l'attacco e sono stati ridati indietro questi 8 milioni di fondi però i restanti sono andati perduti e qui c'è il dibattito di chi è la colpa è colpa sua è colpa di chi ce li ha messi io credo che la risposta stia nel mezzo perché da un lato è vero anche noi lo diciamo sempre diciamo sempre gli smart contract non auditati appena nati eccetera eccetera sono estremamente rischiosi quindi prima di buttarci dentro dei milioni magari uno ci pensa due volte però dico e quindi è cioè in ultima analisi è responsabile chi ha fatto la transazione io ho firmato la transazione mea culpa però anche andre insomma poteva aspettarsela questa reazione perché c'era un hype abbastanza notevole lui che rituita insomma era ovvio che qualcuno l'avrebbe fatto quindi la verità sta un po nel mezzo ora che vi ho presentato il fatto giusto a titolo di cronaca diciamo che cosa ne penso io penso che la penso come te ovvero penso la seconda delle tue ipotesi ovvero il fatto che se sarà un buon prodotto ce ne dimenticheremo tranquillamente perché insomma questo è un fatto che può capitare veramente a chiunque era ancora in beta praticamente lo smart contract non era ancora stato lanciato nulla e quindi anche andrea ha suggerito d'ora in poi guardate i miei smart contract usateli solo dopo che ho scritto l'articolo su medium dove spiego tutto quanto e quindi non così a caso come si possono buttare soldi in questi smart contract che nessuno conosce bella domanda se uno ci sta dietro ha letto il nome è andato a esplorare la blockchain e tutto ha trovato lo smart contract ci ha smanettato un po e uno riesce a mandarci la transazione perché è tutto comunque su blockchain pubblico è una follia una enorme follia io per primo sono curioso di vedere cosa partorierà cronaca stavolta perché secondo me cioè io ho stima di lui anche se qui ha fatto un po di cavolate perché non mi è piaciuto questo approccio qualcuno addirittura parla di inside job ovvero che a lui stesso che ha fatto questo per andare a prendersi una parte ecco io non credo personalmente perché ha modi migliori di guadagnare soldi con la visibilità che ha con le possibilità che ha nel mondo della defy di certo non deve andare ad abbassarsi a questi livelli però ecco è una piccola macchia insomma un po ma lasciato un po da mare in bocchi in ogni caso sono veramente curioso di come proseguirà questo progetto perché lo seguirò indubbiamente ciao luca ciao luca ciao anche a voi ben ritrovati a tutti ci sono dei progetti nft che segui più di altri è bella domanda allora io ho iniziato a seguire raribol anche se un po un caos assoluto io sto parlando adesso con alcuni esperti del settore perché io di solito quando non conosco qualcosa cerco chi la conosce meglio e gli chiedo qualche dritta quindi dove guardare dove andare a vedere quali piattaforme andare a seguire e mi sono state fatte un sacco di insights interessanti su piattaforme che mi hanno veramente stupito cioè per farvi capire abbiamo dei francobolli che esistono anche fisicamente emessi tra l'altro dalle poste austriache messi anche cioè tokenizzati con l'nft poi abbiamo le paia di calze brandizzate uniswap che si chiamano unisocks che anche loro hanno l'nft carte collezionabili che immagino già conoscerete gods unchained su ethereum che è una sorta di magic su ethereum con la tokenizzazione della carta collezionabile quindi abbiamo tutte queste trading cards che è un settore enorme poi il settore delle terre virtuali e degli asset virtuali come ad esempio the centralend the sandbox con i suoi asset poi c'è crypto voxels che è un'altra cosa molto simile un mondo completamente esplorabile c'è veramente veramente di tutto e poi c'è la crypto arte che è forse il settore che mi affascina di più ci sono alcune piattaforme come open sea se voi andate su open sea o su super rare che è tutto attaccato andate a vedere già un po di marketplace e vi fate un'idea quindi se volete giusto stuzzicare un po la curiosità vi mando lì poi ci sono alcuni progetti anche nel mondo dello sport nel calcio c'è ad esempio socios cioè cilis mi pare che si chiami che tokenizza le su nft delle sorte di punti fedeltà di alcune squadre di calcio che sono utilizzabili poi per ottenere un'interazione con la squadra stessa poi c'era quell'altro del calcio di cui non ricordo il nome che però vabbè vi farò vedere nel video poi ce n'è uno sulla formula 1 sull'nba insomma c'è veramente un mondo enorme dietro e ve l'ho detto andate a farvi un giro su super rare e su open sea per farvi un'idea di quello che potete trovare per stuzzicare un po la curiosità e non è una roba così è perché muovono volumi ciclopici in costante crescita la crypto arte tra l'altro si sta muovendo parecchio sono organizzate degli eventi dei musei delle sorte di musei virtuali delle visite insomma è un movimento pazzesco e se volete dare stuzzicare la curiosità anche su quello cercate a catao che è uno degli esponenti italiani più famosi nel nel mondo della crypto arte è quello più più conosciuto diciamo in italia buttateci un occhio perché ne vale assolutamente la pena alex dice stavolta la scillata l'ho sparata io mesi fa con il token del barcellona esatto esatto è pazzesco io ti ricordi che ti rispondevo con sufficienza ti dicevo ma che cagata ma che cos'è sta roba io mica la seguo adesso invece la sto seguendo sto recuperando il il tempo perduto perché è veramente diventato un trend questo è curioso approfondiremo nel video giovedì ciao luca non vedo l'ora di vedere il tuo video sugli nft ecco per l'appunto cosa ne pensi di flamingo dice che un dex su nio potrà competere con uniswap perché dovrei usare flamingo invece che uniswap guarda ti dico la verità tutto ciò che ha su nio non potrà mai competere con ciò che è su ethereum l'unica possibile competizione che c'è per ethereum è qualcosa che unisce magari una blockchain più veloce più snella più agile con ethereum stesso perché la defi è su ethereum quindi non c'è modo di tirarla via da lì scordiamoci che la gente migra su nio perché uniswap ha 2 miliardi e passa di volumi tutte le coin che adesso stanno nascendo nel mondo defi e che vogliono leverage vogliono utilizzare questo il mondo della defi per espandere la loro community con ad esempio il liquidity mining e lo yield farming lo fanno su uniswap non lo fanno su flamingo non lo fanno altrove ok magari lo inizieranno a fare ma alla fine ciò che guida il la scelta dell'utente è il guadagno e la liquidità quindi al momento uniswap non può competere eos non può competere eos secondo me non ha neanche ragione di esistere non solo non può competere perché è centralizzato e quindi non ha sicuramente butterà fuori anche lui la sua controparte defi come ha fatto tron come sta facendo nio come ha fatto la baina smart chain però poi la scelta verte su quello che il pubblico vuole decentralizzazione e ovviamente l'interfaccia la la cosiddetta ux ui la user experience user interface quindi un qualcosa semplice da utilizzare comodo veloce ma decentralizzato e che soprattutto abbia sufficiente liquidità per poterlo utilizzare chiaramente se lo facciamo su nio su eos non ci sono i token irsi 20 bisognerebbe creare dei token sulle blockchain relative questo a meno ovviamente di non fare protocolli cross chain che quello sicuramente è un un passo in avanti e quindi in sostanza l'unica che al momento forse può competere è la baina smart chain proprio perché è nata per essere cross chain perché se non erro come sottostante all'infrastruttura di atom che è proprio fatta per essere cross chain quindi la è concepita per quello quindi continuiamo ciao luca ora che avrai più tempo a disposizione aumenterai a dismisura i contenuti devo licenziarmi per poterli seguire tutti esatto in sostanza adesso anche voi non avrete più tempo per seguire tutti i miei contenuti no scherzo una delle cose che voglio fare è editare un po di più i video quindi se adesso i video che vedete sono delle degli stream of consciousness quindi dei cosiddetti flussi di coscienza io che parlo ripeto le cose dieci volte magari oppure divago parto per la tangente tutto ecco ci sono delle bestie di ogni tipo scusate non lo farò più quindi se noterò che di 20 minuti di video 5 sono utili avrete un video da 5 minuti e non da 20 dove per 15 ripeto le cose che ho già detto quindi questo sarà sicuramente un plus e poi magari valuterò ad esempio di magari aumentare la frequenza dei live metterli a disposizione come podcast come qualcuno ha suggerito sul nostro canale discord parentesi entrate nel canale discord che chattiamo siamo sempre molto attivi ci sono anch'io ci scambiamo opinioni vi aiuto se siete bloccati in qualcosa non riuscire domanda risposta c'è una community di 3.000 passa persone e ci sono anch'io link in descrizione boh chiusa la shield zone e detto questo no vi volevo dire che in sostanza cercherò di migliorare la fruibilità dei contenuti non solo la quantità ma soprattutto la qualità dove siamo arrivati eccoci qua ciao luca complimenti per la tua svolta di carriera sei diventato miliardario con le cripto miliardario non ancora cripto billionaire non ancora ma ci sto lavorando dai come si entra sul canale discord allora se tu scorri qua sotto anche sotto a dico proprio su twitch in sostanza tu trovi dei tabs fatti malissimo perché l'ho ritagliato anche male le immagini e c'è anche il contorno bianco è una cosa veramente abominevole però apprezzate lo sforzo una delle quali è backslash discord che se ci clicchi sopra ti rimanda a discord ci sono anch'io e mamma caterina grande alex un saluto so che ci sei anche su discord e lo monopolizzi praticamente e un saluto anche a mamma caterina che ormai ci segue sempre questa dirà questa gabbia di matti ciao luca hai dato un'occhiata agli ultimi progetti del launchpad di binance c'è qualcuno che ti sembra interessante tutti ti dico la verità tutti quanti perché di solito quelli incubati da binance hanno già un filtro qualitativo decente cioè difficilmente ci sono delle fuffate e poi che dire c'è da vedere nel tempo come si svilupperanno perché adesso è presto per giudicarli però interessanti sicuramente tutti te l'ho shillato io zapper voglio delle shitcoin hai ragione filo me l'hai shillato proprio tu e ti sei meritato le shitcoin adesso te le darò avete visto staking di btc su eidu per ottenere pnt in quel caso c'è il rischio di hacking del contratto sai che non l'ho visto però lo approfondisco subito perché potrebbe essere assolutamente interessante ho spostato oggi i bnb su flamingo vediamo che succede secondo me la prima cosa che succede è che hai un apy più alto innanzitutto poi vediamo insomma fai bene è quello che sto facendo anch'io io ho diversificato un po' a dire la verità con i miei holdings di bnb e ho seguito le ipy da bravo goloso sono piccole scommesse che in realtà poi visto che non ho in progetto di investire scusate di mettere nel mio portafoglio una parte di questi token quello che farò sarà banalmente venderli a mercato in una maniera frazionata magari un total a settimana poco dopo il listing perché non ho interesse nell'investire in questi prodotti per adesso e infatti guarda che magliettazza da miliardario è una maglietta di zara che sarà costata tipo 10 euro una roba del genere pazzo furioso questo è riferito sicuramente al mio licenziamento ciao luca complimenti bel passo seguire le proprie passioni non si sbaglia mai eccolo il nostro hackatau ti ho citato giusto poco tempo fa ragazzi andateci a dare un occhio ai suoi lavori perché è il pioniere italiano della cripto arte quindi veramente vale la pena conoscerlo ve lo riraccomando andateci a dare un occhio si può vedere il grafico della coin burency buy grazie si andiamo a darci un occhio che è che è che è buy btc buy btc tra l'altro bellissimo no non esiste non la vedo nemmeno allora aspettate un secondo che mi tocca aprire coin market cap andiamo a vedere qua ci sarà suppongo allora vediamo intanto me lo dovrebbe caricare ci sarà un head che pesa 7000 giga bene vedo che siamo sul pezzo ecco la velocità del wifi allora buy che è che è sta roba che è ma cosa mi stai scillando ma si può sapere si può sapere allora ultima possibilità è burency burency non esiste va bene basta ma hai perculato t'ho beccato niente giriamo pagina ciao luca nft creati grande grandissimo grandissimo adesso mi devi aggiornare eh mi devi assolutamente aggiornare grande luca te sai dove vedere la live del trump stasera c'era un link mi pare sulla cnn ci si avevo visto un link su twitter c'era sì che stasera c'è il confronto trump versus biden il primo confronto televisivo sarà molto interessante non vorrei essere ficcanaso ma che lavoro facevi? eh ci mancherebbe te lo dico senza problemi faccio ancora per 30 giorni sono ingegnere clinico lavoro nel settore dell'automazione in ambito ospedaliero quindi in sostanza software piuttosto che hardware singolarizzazione del farmaco processi di automazione insomma in ambito ospedaliero un lavoro molto interessante che ho apprezzato molto mi è piaciuto veramente tanto però insomma le cripto sono le cripto il cuore e la testa sono lì ciao luca complimenti grazie ciao luca saluti da bangkok thailandia che spettacolo ti avevo scritto una mail ma non mi hai mai risposto brutto cattivo che sei no mi spiace guarda ma a volte me le perdo proprio via perché come i messaggi su telegram ogni tanto qualcuno mi dice ma non mi hai cagato vi chiedo scusa a tutti quanti che a cui non ho cagato ma veramente è la quantità adesso mi organizzerò meglio anche su questo per cui ecco qui le mie domande benissimo grande allora mi riprendo subito perché consideri le coppie altcoins a base btc invece che a base usdt o euro secondo me con btc è fuorviante ad esempio il grafico e ether btc è bearish ma quello ether dollaro non lo è essendo simile a btc dollaro il che rispetta molto più il trend attuale macro bullish ottima domanda e grazie per averla fatta perché è uno spunto di riflessione per tutti allora la risposta è questa io per due motivi considero il grafico altcoins bitcoin il primo motivo è il fatto che solitamente io tengo come base currency bitcoin perché il mio l'allocazione del mio portafoglio in cripto è praticamente quasi tutta bitcoin una parte ether e una piccola parte due altcoins che sono bnb e ftt ma utilizzo solo bitcoin la mia parte bitcoin o meglio una sottoparte della parte bitcoin per il trading speculativo e quindi non mi capita mai di fare speculativamente delle operazioni in dollari ok o in euro ma le faccio soltanto in bitcoin e quindi quello è uno dei motivi per cui utilizzo sentite utilizzo era da tempo poi che non succedeva utilizzo il grafico altcoins bitcoin e il secondo motivo invece è questo e per chiudere anche sul primo motivo io punto a fare questo trading speculativo allo scopo di accumulare altri bitcoin quindi incrementare il mio stack in bitcoin da poi ridistribuire eventualmente nell'interesse del mio portafoglio secondo le percentuali prefissate ci farò magari un video anche sul mio metodo di investimento non trading ma investimento il secondo motivo per cui guardo i grafici altcoins bitcoin è proprio quello che hai detto tu ovvero che il grafico altcoin euro altcoin dollaro mette dentro al suo andamento anche l'andamento di bitcoin e questa è una cosa che a me non è che piaccia più di tanto cioè io voglio essere esposto a delle altcoins soltanto se è più conveniente operare su ds rispetto che operare su bitcoin altrimenti io prediligo operare su bitcoin che oltre ad andare meglio ha maggior liquidità maggiori volumi più exchange su cui è scambiato eccetera 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 quindi in sostanza l'unico caso in cui mi viene la voglia di aprire una posizione sulle altcoins è il caso in cui la coppia altcoin bitcoin sia bullish bene questo penso di spero di averti risposto e grazie comunque ancora per la domanda molto utile hai appena realizzato il mio sogno licenziarvi per le cripto dai non mollare non tutto è possibile ci ho messo tre anni dal nulla dal nulla assoluto non sapevo manco cosa fossero prima basta crederci per davvero e metterci anime corpo farsi un mazzo così perché adesso che ho il doppio lavoro praticamente finisco di lavorare alle 10 di sera quando va bene e quindi non mollate seguite sempre i progetti che avete non mollate veramente mai se ci tenete davvero qual è la banca più crypto ah la seconda domanda ok qual è la banca più crypto friendly in Italia per collegare il conto con un exchange senza avere problemi Sella Fineco allora guarda io utilizzo Fineco personalmente come banca e non ho mai avuto problemi mai un problema banca Sella è conosciuta per essere crypto friendly perché comunque opera con i principali provider dei servizi bitcoin in italiani e quindi anche quella mi sentirei di consigliarla senza senza remore 3 stop loss visto che usi one week se mettiamo lo stop loss sotto il livello di supporto principale quando poi scatta dobbiamo perdere somme enormi di capitale 20-30% e più il mainstream parla di stop tra 1 e 5% massimo 10 ok bella domanda anche questa grazie per averla fatta allora il discorso è questo quando io faccio un trade che cioè tra le sue regole ha anche implica anche lo stop loss è l'unità di misura non è più la percentuale ma è il capitale a rischio mi spiego meglio magari aiutandomi anche con un grafico allora il un trade io misuro un trade con l'unità che un'unità che si chiama R ok per me un R è un 2% del mio capitale a disposizione per il trading che è quello che dicevo prima il sottinsieme del capitale bitcoin quindi un R uguale 2% del portafoglio trading chiamiamolo in questo modo e un R per me è il capitale che rischio in un trade normale ok quindi quando io vi dico rischio R rischio R mezzi rischio 2R il senso è questo cosa vuol dire rischio R vuol dire che se io apro una posizione adesso supponiamo così long con lo stop loss strettissimo ok questo è uno stop loss strettissimo all'1,22% però vuol sempre dire che se io prendo lo stop loss io perdo R ok perdo il 2% del mio capitale complessivo dedicato al trading come faccio a perdere R con uno stop loss così stretto aumento il size della posizione al fine di perdere R se il trade mi va in stop loss ok questo è chiaro questo è il primo punto da mettersi in testa per capire la mia operatività di contro avendo un risk to reward ratio pari a 3.9 se il mio trade va in profit quindi chiude qua io avrò fatto più 3.9 R ok quindi 3,9 volte il mio capitale a rischio è quello che ho guadagnato con questo trade il tutto ve l'ho detto calcolando il size della posizione in funzione dell'ampiezza dello stop loss è importantissimo tra l'altro trading view vi permette di farlo perché guardate se negli input io metto dimensione conto supponiamo 1000 dollari e il rischio abbiamo detto è il 2% c'è il dovrebbe esatto per cento quindi 0,0 no scusate 2% ok e poi metto dentro il prezzo di entrata e il prezzo di uscita cioè il prezzo e lo stop e lui mi compila da solo i campi necessari quindi il size della posizione che dov'è che è ecco si vede qui quantità ok questo è il size della posizione in base allo stop loss e al take profit come vedete se io amplio lo stop loss il size diminuisce perché in ogni caso io devo perdere R se io vado in stop loss e quindi per ovvi motivi se lo stop loss si allarga il size diminuisce perché a parità di size con uno stop più largo come giustamente facevi notare tu la perdita aumenta ma la costante in un trade deve essere la perdita quindi si parte da quella costante lì e si calcola tutto il resto in funzione della perdita stessa e come vedi al contrario se io stringo 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 lo stop loss aumenta il size e a volte ovviamente si deve per forza di cose ricorrere alla leva quando lo stop loss è strettissimo e il trade è super intraday super veloce spero di essermi fatto capire perché anche questo è un concetto estremamente importante e per questo motivo ti ringrazio di aver fatto anche questa domanda mi spiace non averti risposto via mail ma non più di tanto perché così ti ho potuto rispondere davanti a tutti e sicuramente è utile anche per gli altri con gli NFT pensate che l'hype della DeFi si sposterà è facile avere l'hype che si sposta velocemente a periodi hai voglia hai voglia è facilissimo che si sposti l'hype nel mondo delle cripto io penso che però più che spostarsi cavalcherà un po' l'onda della DeFi perché DeFi e NFT adesso si stanno intrecciando c'è il farming degli NFT con meme che permette di facendo staking dei meme di farmare NFT poi stanno nascendo i token che sono collateralizzati da NFT come controvalore dei token che permettono di scambiare alcuni NFT solo nel loro mercato che a loro volta si possono mettere in pooling su uniswap per fare insomma è un macello pazzesco è veramente si sta creando una roba composta che bisogna da un lato stare attenti perché avendo così tanto così tante sovrapposizioni e interoperazioni tra varie piattaforme se una dovesse sviluppare un caso critico un cigno nero c'è il rischio di una reazione a catena devastante però dall'altro insomma è fatta così le crypto sono fatte così cioè soprattutto Ethereum una cosa si intreccia con l'altra che si intreccia con l'altra eccetera 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 insomma è veramente come dice Alex un parco di buoi un altro parco di buoi un macello però veramente affascinante cosa hai scritto sulle direzioni di missioni direzione to the moon come mai è because I have to go to the moon questo ho scritto buonasera buonasera Luca grandissimi nel caso dell'utilizzo di Zapper la chiave privata della coin che metto in pool chi la detiene grazie allora ecco diamo diamo un'occhiatina a Zapper visto che avevo fatto il teaser adesso ne parliamo un po' che cos'è Zapper allora volevo farvi vedere la pagina principale dashboard vediamo vabbè facciamo così allora fondamentalmente Zapper è un un aggregatore di piattaforme DeFi dal quale si può fare tutto in una volta in una sola interfaccia che cosa significa allora supponiamo che io voglio andare a mettere un po' di liquidità su uniswap un po' di liquidità su balancer un po' di liquidità su curve e però ovviamente cosa devo fare per metterla su uniswap servono tutte e due le coin del pool in cui voglio mettere la mia liquidità quindi devo fare lo swap di una parte per avere le due coin in proporzione mettere entrambe le coin su uniswap e insomma e così via e quindi spendere n volte il gas poi se voglio qualcosa anche su balancer devo spostarlo di là e pagare il gas insomma tutte queste operazioni Zapper ti include in un'unica interfaccia tutto questo in che modo allora guardate c'è da collegare il proprio wallet ethereum innanzitutto e partiamo con un'interfaccia ovvero quello che abbiamo nel wallet e quello che abbiamo investito in realtà questo investito ho visto che integra anche token set c'è il mio set di token set che è integrato anche qua su Zapper che pace all'anima sua adesso con la versione 2 ne riparleremo e alla grande aspettatevi grandi cose anche lì che ci ho dedicato talmente tanto tempo che mi spiace che vada a finirne il nulla in ogni caso la cosa bella è che nella pagina invest vedete qua ci sono tutti i pool di liquidità ordinati per liquidità ok vedete il più liquido è il Y-Curve che è il pool su curve dedicato a yearn finance dove si può fare yield farming di yearn finance stessi e poi abbiamo i 4 pool di uniswap dove si può farmare uniswap chiaramente poi abbiamo altri pool di curve ecco lo Y-Curve Volt su yearn finance poi questo su synthetics e quest'altro su curve questa è la top 10 ma pagina 1 di 27 si va avanti veramente a oltranza in sostanza da qua con un click o poco più si può andare a dare liquidità ai diversi pool diversificando anche il proprio investimento quindi è come dire una panoramica guardando il mio wallet ethereum di come sono di dove sono i miei fondi ok dove sono finiti sono una parte qui una parte lì una parte là ecco come sono suddivisi quindi avere una panoramica di come ho gestito il mio portafoglio dove vedete questo simbolino giallo che ci ho messo mezz'ora a capirlo ma è un trattorino significa che si fa anche yield farming quindi viene erogato anche un token fees 24 ore sono le fees distribuite quindi eccetto lo yield farming quello che è stato distribuito ai liquidity provider cosa si fa add liquidity ma la cosa bella è questa guardate supponiamo che io voglio andare a dare liquidità al pool die ether ok quello per farmare uni cosa dovrei avere dovrei avere un tot di die un tot di ether in proporzione al valore ether die in questo caso io ci vomito dentro 100 ether supponiamo che ovviamente non ho mai perché ne ho ben uno in questo wallet e lui da solo me li splitta vedete mi va a splittare in die e ether in maniera proporzionale ci perdo un pelino ovviamente ma quanto lo 0,0094% per via di slippage ok poi qua posso andare a settare la tolleranza massima allo slippage e il gas il costo di gas che voglio utilizzare e poi faccio partire la transazione ovviamente questa transazione mi costerà di più un po' di più in gas rispetto alla transazione di alla singola transazione su un e-swap però capite che va a fare qualche step in più qualche cosa in più che mi ottimizza il flusso soprattutto devo fare una transazione sola faccio zap in e zap out quindi da ether vado direttamente a dare liquidità e farmo automaticamente il token che posso fare il claim direttamente da qui e poi del token uni non devo andare in giro da qualche parte e basta e poi riesco ancora di nuovo in ether o in un altro token ERC20 tra questi disponibili è veramente comodo e quindi per dire se voglio mettere 100 ether voglio metterne 10 su un e-swap su un pool 10 su curve sul y-pool 10 su synthetic sull'susd curve e così via posso farlo in maniera abbastanza easy e poi qua nella dashboard mi fa vedere come è splittato il mio capitale sulle diverse piattaforme se vi interessa ditemelo anzi facciamo un sondaggio ora e farò un video tutorial dove vi spiego passo dopo passo come si utilizza questa piattaforma potrebbe essere molto molto comoda per per chi vuole insomma investire il suo capitale sulle piattaforme DeFi sondaggio sondaggiamo 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 dai allora eccoci qua gestisci sondaggio ci vuole un po' di tempo abbiate pazienza nel frattempo vi scillo anche facciamo un'altra piccola shield zone ovvero che se volete supportare il mio lavoro lo potete fare utilizzando i miei referral link che trovate in tutte le descrizioni oppure abbonandovi al canale Twitch a questo canale Twitch che se avete Twitch Prime è gratuito se Amazon Prime quindi Twitch Prime è gratuito ma vi ricordo che lo dovete rifare ogni mese se cercate la guida su come abbinare Amazon Prime a Twitch Prime la trovate veramente roba da meno di un minuto e poi cliccando abbonati per me arriva una piccola donazione per voi è a costo zero bene ci siamo tutorial su zapper yes anzi facciamo zap yes o zap no votate così così mi faccio un'idea volevo volevo già farlo di mio ma vediamo se vi interessa oppure no allora per votare menu a tendina ovviamente come sempre qua sopra cliccare e vote allora andiamo avanti nel frattempo con le domande ah no scusa in tutto questo ovviamente non ho risposto alla domanda ovvero la chiave privata della coin che metto nel pool chi la detiene allora la chiave privata è sempre tua ma in sostanza non hai più la coin ma hai una versione modificata ok di quella coin con un prefisso davanti che non ricorda un po' come quando tu metti su yearn finance ok un token e hai il y token che vuol dire che sta maturando rendimento ecco la stessa cosa vale qui tu hai un token particolare che puoi andare a fare il redeem in qualsiasi momento ottenendo il tuo token indietro sbloccato con il rendimento accumulato questo è un po' il discorso la chiave privata è sempre tua perché tu ci colleghi direttamente il tuo wallet ethereum quindi i token rimangono sempre sul tuo wallet ethereum ciao carissimo domandone io vedo un swap da un po' un po' da pro perché penso si debba avere un po' di capitale per le fees verissimo e poi c'è il rischio di dump di ether secondo te con il minimo di quale cifra si può entrare per avere dei profitti ci sono delle piattaforme defi dove poter entrare con somme sotto i mille dollari per fare pratiche guadagnare qualcosa guarda sotto i mille dollari secondo me è veramente misero il guadagno quindi forse non ti conviene visti anche i rischi che ci sono il discorso dell'impermanent loss cioè rischi di andare a complicarti la vita per poco le piattaforme più user friendly più che hanno una barriera di ingresso minore sono token sets che permette di fare anche il farming tra l'altro che però espone sempre ovviamente al rischio di impermanent loss e poi c'è il costo di gas fees ma una volta sola che è molto meglio che andare su uniswap e fare tutte le operazioni altrimenti io ti consiglio curve che è una sorta di uniswap ma solo per le copie di stable coins e quindi non corri il rischio di impermanent loss ma come curve c'è anche io ad esempio uso mstable che anche lì metti in staking stable coins non corri il rischio di impermanent loss e ottieni la tua rendita ok quindi mstable curve token sets forse la metto terza perché comunque c'è l'impermanent loss e altrimenti ci sono le cefai che forse con somme più piccole convengono ancora perché che dire sono sono molto molto più sono molto meno dispendiose da utilizzare non ci sono fees e sono più più comode più sicure anche della defai c'è poco da dire però il rendimento chiaramente è più basso ma stable no mstable guarda aspetta facciamo così vi condivido il sito direttamente abbiate un attimino di pazienza ve lo linko qua in chat eccolo tac tutto vostro mstable dot org vedo che per il zapper siamo sullo zappi s garantissimi andiamo avanti andiamo avanti no non andiamo avanti perché adesso è il momento di girarci sui grafici allora facciamo un po' di analisi di grafici perché altrimenti poi mi dite ma dedichi poco tempo ai grafici quindi in realtà non c'è veramente una mazza da dire su bitcoin allora bitcoin è diviso tra due possibilità la possibilità bearish e la possibilità bullish un po' come sempre d'altronde ma in questo caso è ancora più vicino al bivio perché da un lato abbiamo la possibilità di creare una w un costrutto di bottom a w qualora dovessimo andare a riapprocciare gli 11k ok e poi idealmente con successo perché adesso tra un po' vediamo il bull case e dall'altro caso dall'altra l'altra faccia della medaglia l'altro versante è invece il fallimento di questa w l'offerta che vince sulla domanda ci riporta a toccare i minimi e facciamo un lower high anche qui dentro questo è un po' il bivio a cui si trova davanti bitcoin andiamo adesso a vedere un po' più nel dettaglio questa cosa quindi come capire se si verifica se si dipana un caso oppure l'altro partiamo dal bull case che è quello che tutti speriamo chiaramente allora il bull case prevede il reclaim degli 11k che è il il livello di prezzo che al momento funge da resistenza più forte ok lo vedete e e poi ovviamente il fatto che questo si conferma un costrutto di bottom a w e quindi ritorniamo nel range nella zona dei massimi forti di questo costrutto di bottom e siamo quindi pronti con un po' più carica per andare a riattaccare i massimi locali e continuare eventualmente l'up trend quindi stiamo supponendo che questo questo canale canalino di downtrend in realtà sia una bull flag fondamentalmente per gli amanti dei pattern da libro di testo andando a vedere più da vicino la price action più al microscopio cosa vediamo vediamo che sopra gli 11k abbiamo una piccola zona di liquidità un piccolo pool di liquidità non confondetevi con un swap che non c'entra niente in questo caso per pool di liquidità io intendo un area di prezzo un gap di prezzo un intervallo di prezzo in cui si concentra verosimilmente della liquidità in offerta in questo caso perché ovviamente è qua sopra e in quanto tale è in offerta qua c'è probabilmente della selling pressure questa selling pressure dovrebbe agire se effettivamente ha interesse a farlo qualora il prezzo si avvicini a questa zona qui quindi entriamo qui dentro papam ci dovrebbe si dovrebbe palesare selling pressure che sopprime per l'appunto il movimento altrimenti significa che non c'è più liquidità in offerta e che il prezzo può continuare ad andare avanti e questo è il caso bullish il motivo per cui infatti tengo i pool di liquidità come area estremamente significativa nel caso bullish e nei vari casi in generale è proprio quello che se la liquidità viene assorbita è un rafforzatore del caso bullish se la liquidità funge da resistenza invece è un rafforzatore del caso bearish in questo specifico caso cosa vorrei vedere esattamente sul grafico per essere il più concreto possibile per avere più fede più fiducia nel bull case allora la prima cosa è l'approccio con gli 11.193 che è il top del pool di liquidità qua sopra ci sono concentrati gli stop ok lo sappiamo qual è lo scopo anche di questi top locali quindi se il prezzo arriva 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 qui pam tac probabilmente si innesca un forte movimento turbo lento e c'è da vedere poi l'approccio che segue nel caso ideale rimanendo ovviamente il più bullish possibile abbiamo un approccio quindi agli 11.193 un pump dovuto alla liquidazione e allo scattare degli stop a catena e poi abbiamo una bella chiusura della candela convinta comunque qua sopra va bene questa è una bella cosa bullish e questo quindi cosa ci dice ci dice benissimo abbiamo la possibilità di andare ad aprire un setup long chiaramente questo non è una certezza se vogliamo confermi ulteriori possiamo aspettare una o due o tre candele giornaliere successive prima di aprire il setup long per evitare che una delle candele successive faccia un BART o faccia un falso breakout ok chiaramente quanto più la candela di breakout chiude lontana dalla zona di liquidità e dalla resistenza rossa rossa dalla resistenza rotta quanto meno è possibile un falso breakout ma mai dire mai e questo è il motivo che a volte spinge ad aver maggior cautela il setup long in questo caso è veramente semplice perché prende il pool di liquidità e la resistenza come entry area e scenario di negazione la perdita dell'area rotta rialzo quindi la perdita della zona 11k possiamo andarla a estendere un pelino magari anche a quest'area qui e a metterlo sotto i 10.500 lo stop loss va bene quindi entry area l'abbiamo tra i 10.950 e gli 11.200 stop loss sotto i 10.500 va bene e quindi abbiamo una posizione che poi si può anche tenere trend follower perché questo sarebbe un bel setup long comunque da bias bullish da struttura bullish un bel reclaim e quindi secondo me ci sta una situazione di questo tipo ovviamente poi abbiamo i falsi breakout immediati quindi magari che rompe buca 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 ma viene soppresso e poi la candela chiude sotto che fa vedere che comunque l'offerta è preponderante in quel caso lì è meglio aspettare per aprire ovviamente dei setup long delle posizioni long lo scenario bearish invece sarebbe la comparsa di offerta adesso in particolare si tradurrebbe in maniera concreta con la perdita di questa zona qua questa scusate facciamo un bel rettangolino qua questa è una zona di supporto che cosa ho fatto no volevo colorare il rettangolo e invece ho colorato la linea quello che vi dicevo è che questa zona di supporto qualora venisse persa e torniamo a gravitare qua sotto avremmo fatto innanzitutto vabbè intanto avremmo assorbito il break di questa candela ok vedete che dando a vedere al microscopio ancora più da vicino il costrutto qua vediamo questo livello la candela l'ha rotto e quindi il break si basa proprio su questo se assorbiamo quest'area andiamo ad annullare il break stesso e poi che altro vabbè avremmo come dicevo prima un lower high ok quindi è un un costrutto che è a favore dell'offerta più che una w rischierebbe poi di sembrare un mini test e spalle e quindi cambierebbe completamente i suoi connotati chiaramente il completamento di questo costrutto lo avremmo soltanto all'assorbimento completo del pool di liquidità in domanda che in questo caso si insinua sotto ai 10.100 tra i 9.800 e i 10.100 i pool di liquidità si individuano bene quando ci sono due livelli di prezzo ai suoi estremi uno in cui chiudono le candele e l'altro in cui finiscono le shadows quello è il pool di liquidità che altro beh ovviamente anche la perdita di questo supporto non significherebbe che il costrutto cambia che la struttura cambia macro intendo ma faremo un altro passo indietro e un altro passo avanti nello sviluppo di questo possibile downtrend abbiamo poi come altro supporto i 9500 che è questo clasterino sotto che se perso anche lui facciamo un altro passo indietro chiaramente va bene quindi questo è un po' il discorso rischiamo cioè poi la perdita degli 8500 giù di lì e quest'area qua sopra sarebbe un po' una batosta finale perché perderemo anche tutto questo range e creeremo un costrutto di top molto importante che sarebbe tutto questo però non voglio ancora fasciarmi troppo la testa perché è uno scenario fortunatamente ancora lontano a meno che oggi non ci sia un giga dump improvviso adesso non so se Trump magari si scanna con Biden non so cosa combinano e magari fanno impazzire i mercati e basta questa è un po' la mia visione su bitcoin nel frattempo vi vediamo un po' l'approccio con questi due livelli dipende un po' tutto da lì basta chiusa la parentesi bitcoin andiamo a vedere le altre posizioni aperte che sono BNB che allora ecco ho fatto lo scarabocchio perché oggi su Telegram non so chi di voi mi segue su Telegram spero in tanti perché trovate tutti i miei trade e tutte le mie analisi quotidianamente posto anche forse fin troppo faccio 5 o 6 post al giorno di solito ma ve l'ho detto tutto quello che penso ve lo condivido su Telegram in ogni caso vi ho condiviso questa cosa allora se guardiamo sul time frame settimanale che è dove ho basato questa analisi benissimo allora notiamo vi ricordate il range famoso di cui questo è il range high 0.0024 e questo è il range low 0.001835 ok questo era il range nel quale si è mosso BNB fatto la deviation è rientrato reclaim questo era il pattern il setup long che ho usato per entrare e poi ha fatto il follow up di domanda e il breakout da range addirittura ok breakout con candela immediatamente successiva candelona di offerta che è andata subito a sfidare nuovamente 0.0024 range high ha retto guardate l'ha attaccato però la domanda ha riassorbito il dump chiudendo con una candelina pin bar col body veramente invisibile rispetto alla shadow e la candela di questa settimana sembra un follow up di domanda tuttavia c'è un tuttavia qual è il fatto che il questo costrutto qua questo pump e assorbi pump and dump possiamo chiamarlo è molto molto marcato quindi è veramente difficile andare adesso a fare un higher high subito sarebbe una roba iperturbolenta è molto più probabile vedere un pattern di consolidamento verosimilmente triangolare prima dell'eventuale prosecuzione rialzista ok quindi questa è la maggior possibilità che vedo sullo scenario BNB BTC e quindi si potrebbe andare ad aprire una possibilità di agire qualora vediamo un costrutto triangolare caratterizzato da lower highs e higher lows entrare prematuramente magari sul prossimo higher low con un setup long che prevede una posizione trend follower ipotesi di lateralizzazione dopo breakout invalidazione in caso di assorbimento del breakout quindi ritorno dentro al range e trend follower per il resto quindi questo è il motivo di questa posizione su BNB BTC basta io per il resto ho ancora aperto ho ancora aperta la posizione long che avevo originariamente aperto qui poi abbiamo ether andiamocelo a vedere ether bitcoin allora questo è il settimanale che ha chiuso sotto al range guardate ha chiuso appena appena sotto al range quindi adesso ether in realtà non è che faccia proprio golissima va bene c'è buona possibilità di andarlo a vedere a ritracciare ulteriormente magari andando a testare perché no 0.0 0.0 28 che è il livello di supporto più prossimo e potrebbe tranquillamente essere un bel trampolino di lancio per la sua prosecuzione rialzista più sul breve se invece dovesse flettere e poi ripartire subito abbiamo 0.0318 che però non è neanche una correzione cioè veramente un boh un niente cioè significa che ha lateralizzato un po' in rettangolo per il resto non la chiamerei una correzione c'è da vedere il suo intento insomma quindi due possibilità o anticipatore in caso di correzione fino a 0.0028 oppure anticipatore kamikaze nel caso di 0.0318 per chi vuole già aprire il limit io non lo farei magari con stop loss sotto agli spike che ha già fatto oppure attendere il reclaim di 0.0335 che è questo clasterino intermedio che faceva da range low questi sono gli scenari per ethereum io personalmente ho ancora aperta parzialmente la posizione long perché l'uscita da range non è stata iper convinta e credo che anzi sono certo che lo stop profit per il restante la restante parte della posizione la sposterò proprio qua sotto e questo è quanto altre posizioni aperte non ne tengo non tengo posizioni aperte e quindi basta ion finance ha droppato probabilmente per la figuraccia di andre non lo so probabile che ormai il mondo cripto ragiona così ma avevate portato all'attenzione teta ed effettivamente ci sono tutti i motivi per cui avete dovuto farlo guardate che struttura pazzesca che mostra teta allora abbiamo una struttura di higher highs higher lows pazzesca ve l'ho detto e non c'è nessun tipo di accenno a frenare un attimino è una bomba quindi qui ci sta il buy the dip andando a vedere magari sul daily qualora dovessimo avere un attimo di segno di cedimento ad esempio la prima area interessante c'è un'altra zanzara scusate se la vedo volare se mi vedete applaudire non mi applaudo da solo non sono così egocentrico ma è la zanzara in ogni caso vi dicevo questa potrebbe essere la prima area interessante da valutare per un entry nel caso di ritracciamento di teta magari durante una flessione delle altcoins chi lo sa da seguire assolutamente ora ripasso la parola a voi così mi chiedete qualche cosa mi dite qualche altcoin eccetera 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 allora celsius btc e cro btc andiamola a vedere allora celsius che anche lei sta decollando ai massimi anche lei non mostra non mostra rallentamenti di nessun tipo pazzesco non so veramente cioè veramente siamo al punto in cui è estesa in maniera talmente alta da rendere difficile un entry sul ritracciamento quindi è il momento in cui io starei a guardare senza agire il momento in cui è troppo è troppo andata e cro btc che non ho sulla watch list ma andiamola a vedere subito sta lateralizzando è topi forse però dipende dipende da come termina questa lateralizzazione insomma se se buca rialzo ci potrebbe essere un altro ciclo rialzista se buca ribasso potrebbe essere una prima inversione che dopo questa crescita abbastanza marcata ci sta anche tutta dipende dipende se fa un lower un lower low rispetto a questi due ok una roba così allora aumenta di possibilità il caso ribassista se fa invece un breakout abbiamo lo scenario rialzista questo è cro ciao luca kton btc land usdt allora kton btc che cos'è oggi eccolo da da ruinia mamma mia che cos'è no agghiacciante va de retro va de retro un grafico di questo tipo una punta del genere per me significa no l'altro tezos tezos bitcoin ce l'ho anche qua se non erro dove sei qua male malissimo vi ricordate che avevano detto setup short qua su tezos ed effettivamente ha fatto è uscito proprio come da manuale cioè è andato fino a target che era 0.00019 ok questo supporto precedente questo era il range low questo era il range high vi ricordate abbiamo ragionato così un range molto lungo di durata è uscito a ribasso e quindi è uno scenario fortemente ribassista il primo scenario rialzista il reclaim del livello stesso del range quindi prima di allora la risposta è no un breakdown ulteriore potrebbe essere un rafforzatore per uno short però direi che il long non ispira parecchio anzi non ispira nemmeno un po' secondo te EOS sta lentamente salutandoci ritornerà magari a 50.000 SAT EOS secondo me sta facendo un pattern di sanguinamento lento difficilmente recuperabile continua a perdere supporti continua a fare minimi decrescenti insomma è veramente brutto EOS non ci opererei ma neanche short perché non è neanche volatile da dire ti viene voglia di shortarlo lo lascerei completamente perdere il primo segnale di ripresa tra virgolette sarebbe un reclaim di 0.0003 rivederlo a 50.000 quello che dicevi è lontano è veramente lontano non ci spererei più di tanto è messo veramente male dunque ma perché limitarsi a guardarti solo in live io mi gusto sempre anche la replica sul tubo sei il numero uno Giuseppe lo so io che sei il numero uno grande ti ringrazio land usdt allora vediamo un po' land btc io ho che è lì che attacca un supporto però tu mi hai chiesto in usdt io la mia perversione mi direbbe di farlo in btc però dai land usdt dove sei dove sei qua binance è uguale sì anche perché bitcoin sta lateralizzando sembra un cuneo ribassista di questi c'è un come si chiama un falling wedge ti dirò non mi ispira più di tanto perché lower highs lower lows quindi aspetterei eventualmente il break dal cuneo se proprio vogliamo andare a fare un trade basato su questo pattern se non so nemmeno come disegnarlo sto benedetto cuneo potrebbe essere così è che poi sai cosa succede che ti fa il break da qua e ti fa magari così in modo che tu avresti dovuto disegnarlo in quest'altro modo ed è questo il brutto dei pattern che ogni tanto tu li disegni e poi cambiano da soli quindi io di solito preferisco andare a vedere i massimi e i minimi gli higher highs e gli higher lows e questo potrebbe essere appunto un primo segno non lo so però al momento è in fase correttiva land e va preso in quanto tale abbiamo un supportone bello strong su questo cluster questo ok e basta questo è quanto per land band ambulanze zanzare solo in live esatto questo è il motivo per andare a vedere in live tra l'altro mi ha divorato mannaggia lei dannata zanzara sento mi prude già ovunque mi sta punendo dove siamo dove siamo il trend è cambiato e si sento di clacson è vero c'è gente che strombazza fuori band allora andiamo torniamo seri un attimo di serietà e andiamo a vedere band band che adesso se non erro c'è un pool su binance in cui si può stakeare band per ricevere una dei nuovi token defi però band purtroppo ha molti bagholders che ancora sono lì che non aspettano altro che vendere infatti se ci fate caso ogni spunto di domanda è immediatamente soppresso e questa è la tipica cosa da bagholder adesso stiamo lateralizzando in questo piccolo range ma vi dico la verità non opererei su band il supporto più prossimo è 447k sat questo qua sotto e c'è da vedere come reagiamo se reagiamo bene ed eventualmente ci sarà un reclaim di questo range che stiamo facendo ora con rottura dei 64k rialzo potrebbe essere un'ipotesi di long iper prematuro quindi con take profit perché comunque la struttura al momento è ribassista altrimenti se perdiamo anche questo vabbè ciao andiamo andiamo a ulteriormente inficiare la struttura rialzista che abbiamo ragazzi io credo che abbiamo parlato abbastanza perché abbiamo cubato un'ora e venti ve l'ho detto giovedì vi voglio tutti più sul pezzo che mai iniziate adesso a meditare a raccogliere le energie a riflettere perché arriva il video sugli NFT che sarà un concentrato di cose un concentrato di informazioni quindi vi voglio pronti carichi e invogliati a vederlo tutto non che vedete i primi due minuti e poi staccate perché altrimenti vi perdete il cuore dell'informazione io vi ringrazio di nuovo vediamo tra l'altro il risultato del sondaggio per vedere se fare o meno il tutorial di Zapper ma qualcosa mi dice di sì cos'è questo rumore agghiacciante sì Zappies quindi faremo un tutorial un approfondimento su ZapperFi e basta questo è tutto per oggi vi ringrazio di avermi seguito ci rivediamo in live venerdì quindi se avevate altre domande da fare tenetevele per venerdì e basta direi che vi posso tranquillamente salutare e un carissimo saluto e alla prossima ciao a tutti